Questa notte a Torino si sono aperte le porte del centro di rieducazione sonora. Riporteremo nel cuore di Torino la musica elettronica che va a girar la testa. E noi partiamo così, piano piano. Perché così piano piano ricominceremo a farvi ballare. Grazie. 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 Stiamo cominciando a scaldare i motori Piano piano Torino si prepara a ripartire A qualcuno questa notte potrà sembrare una trasformazione Noi la vorremmo chiamare evoluzione Al NGMI Piano piano turner juice Tutti al ragazala Tutti al ragazala Tutti al ragazala Tutti al ragazala Abbiamo fatto evolvere il suono, la location Vorremmo fare evolvere il Torino in sera Grazie a tutti 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 Sabato Grazie a tutti 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 e a tutti Grazie 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 a tutti